Arce di Ocesi di Pesaro, Confindustria, Gruppo BS, Riviera Banca, Università di Urbino, Ordine degli Avvocati e Ordine dei Commercialisti. Tante realtà del territorio pesarese diversificate in un'unica missione, analizzare le sfide dell'oggi e il futuro dell'economia. E questo è il ciclo dei tre incontri che convoglierà a Pesaro e a Gradara grandi personalità dell'economia, della finanza e del giornalismo. Il primo appuntamento è il 30 settembre alle ore 18 al Business Center di BS Group alla presenza dell'economista Stefano Zamagni e dell'avvocato Andrea Moschetti partendo dal tema Quando l'industria incontra l'uomo. Ciclo di incontri che proseguirà il 17 ottobre con Ferruccio De Bortoli e Katia De Ross e il 25 novembre con Leonardo Becchetti e Sergio Gatti. Presentiamo un importante programma che ha lo scopo di mettere al centro l'uomo come protagonista del futuro. Ci interroghiamo su quale futuro si possa avere e in questo sforzo corale che cerchiamo di fare tra più soggetti, Confindustria come soggetto collettivo ha anche pensato di fare un apposito manifesto per indicare i punti strategici sui quali concentrare la nostra attenzione in termini di ecosistibilità, di economia circolare e di responsabilità sociale. Noi abbiamo sostenuto questa iniziativa perché la Chiesa attraverso il suo magistero sociale ha sempre posto al centro la figura dell'uomo, la sua umanità ma anche la centralità del lavoro. Anzi attraverso il lavoro l'uomo porta a compimento l'opera della creazione, la migliora, per lo meno la dovrebbe migliorare. Poi noi siamo oggi in un contesto in cui il lavoro manifesta tutta la sua debolezza. Oggi il lavoro è precario, disperso e anche spesso pericoloso. Quindi c'è un problema di risoggettivare il lavoro, fare del lavoro il momento in cui la società ritrova la sua unità. Nel DNA dell'imprenditoria italiana vi è una naturale tendenza a trarre i saperi, le tradizioni e le motivazioni dal territorio in cui si trovano ad operare ed è quello che il gruppo VS ha potuto verificare quando nel 2018 ha cominciato a redare il primo bilancio di sostenibilità. Erano già presenti nel gruppo infatti dei germi di sostenibilità che poi sono stati ulteriormente approfonditi e integrati nei piani industriali prioriennali. Siamo qui oggi con questa serie di incontri proprio per proporre al territorio un profilo culturale ulteriormente approfondito sui temi della sostenibilità per consentire agli imprenditori di affrontare le sfide dell'oggi e il futuro dell'economia con maggiori competenze. C'è bisogno di novità, c'è bisogno di innovazione, c'è bisogno di nuove soluzioni e questo soltanto la ricerca credo possa garantirlo. Stiamo pensando insieme anche alle associazioni di categoria, a chi opera, alle imprese, delle modalità per sostenere l'impatto di questa evidente crisi inflattiva e crisi energetica. Siamo una comunità e in questo senso le comunità si devono attrezzare, si devono confrontare, devono dialogare, devono relazionarsi per trovare le soluzioni migliori. È il compito del credito cooperativo, è il compito di Riviera Banca ed è quello che faremo. Anche il ciclo di incontri che abbiamo promosso e di cui siamo partecipi va in questa direzione.